Ehi, ciao a tutti ragazzi, sono il Tecno e benvenuti in una nuovissima Sky Wars, ma prima di iniziare volevo dirvi che ho caricato anche un altro episodio delle Bad Wars, eravamo 5 contro 5. Io sono stato fortunato a distruggere il letto perché mi mancava un solo click del mouse per distruggerlo, ma 5 nemici a mani nude mi punzecchiavano e quindi mi sbattevano a destra e a sinistra, la visuale si muoveva e io non riuscivo a distruggere il letto, quindi secondo me è stato un episodio divertentissimo, se volete andate a vederlo. Ma adesso pensiamo alla partita di oggi. Ok, siamo dentro, non mi so comprato nessun kit perché ho solo 6 punti, peccato. Ma vabbè, non fa niente. Prima cassa. Ah ragazzi, che fortuna, guardate un po' l'arco con 20 frecce addirittura. Abbiamo anche un diamante, un'ascia per difenderci, tanti blocchi e dai, stiamo messi per il momento bene. Vediamo la seconda cassa. Ah, ottimo, altre frecce e anche due lingotti di ferro, quindi faccio una cosa, mi crafto un attimo la crafting table. La mettiamo qui. E mi faccio subito la spada, ovviamente. Ok, l'arco con 35 frecce è il massimo proprio, dai. Quindi ho molte possibilità di vincere. Vabbè, non di vincere, ma di buttare qualcuno giù sicuramente. Allora, vediamo se qualcuno sta venendo da noi o non so, vuole far qualcosa. Quello ci riuscirò a buttarlo? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Questa cosa può costarmi cara Oh guardate quello dove sta Stagasdung 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 Vai scappa in casa che è meglio per te Abbiamo un casino di blocchi Quindi non devo preoccuparmi più di tanto Saliamo sopra per il momento Eccolo Non te la faccio prendere sta cassa Stronzo Ok ammazzato Grande Ah 10 bottiglie di esperienza No io volevo la perla mega Siamo rimasti in tre Vabbè Gianfra e Luca Marte Ok dove sono? Sono arrivati al centro Molto probabilmente si Guardate dove sta Allora dall'alto come sempre Tentiamo una cosa del genere Qui c'è rimasto qualcuno in casa No sembra non esserci nessuno Ragazzi proviamoci Non vi assicuro niente Ma io ce la metterò tutta Voglio vincerla questa Skywars A tutti i costi Anche se Quello che è andato al centro Sicuramente Si sarà fatto le cose migliori Quindi Sicuramente Una corazza in diamante Questo che ci fa Qua giochi sono Gianfra Ok Gianfra Preparati a morire Gianfra Quello però è rimasto ancora dentro Io potrei tentare una tattica Che mentre loro salgono Io li ammazzo Perché rimangono in fin di vita Ok li vedete dove stanno Non mi dite che sono in team Però Ah Se no mi incazzo seriamente Gianfra Gianfra Ammazzatevi di botte Che poi intervengo io E vi massacro tutti Ah vedete dove sta Eccolo Affanculo Morici Morici No E combattere Oh si ragazzi L'abbiamo ammazzato Adesso è rimasto solo quello Che comunque dovrà morire Era mezzo nudo Quindi Mi butto subito Prendiamo la roba di questo Bah Oddio quanta bella roba Mangiamoci una mila d'oro Assolutamente Poi Stipale in diamante Questo Questo E E la fine Dove sei Fatti vedere Che sarà la fine Per te Sarà la fine Veramente Gianfra Mi dispiace Poi a vedere Mi va male Che dite raga Mi butto Anche una per l'omega Buttiamoci sull'albero Allora Facciamo un'entrata Da pro Da qua no Scassiamo i vetri Si è chiuso Ma noi ce l'abbiamo un piccone Certo Certo che si Vieni qua Vieni La lava La lava La lava La lava Mi butto la lava addosso Raga Scappiamo Vediamo che fa Ma non scende Dai La lava non scende Ma guardate questo Dai No è crashata la partita Non è possibile ragazzi È crashato tutto Io avrei vinto L'avete visto Sicuramente Vincevo la partita È crashato tutto Cioè guardate Sarebbe morto Sicuramente No La lava sarebbe scesa Guardate la situazione No La lava in testa Proprio Sarebbe morto Io avrei vinto la partita Quindi dai Me la do vinta Perché non è possibile Dai Cioè crasha Mentre Connessione persa Crasha Mentre stavo per vincere Vi rendete conto Vabbè ragazzi Avete visto Io questa skywars Me la prendo vinta Avete visto la situazione Il player sicuramente Si sarebbe beccato Una bella Un bel secchio di lava In testa Quindi sarebbe morto E se si fosse salvato Io con una spada in diamante Una mela d'oro Lo massacravo Vabbè ragazzi Con questo è tutto Spero che questo episodio Vi sia piaciuto E ci sentiamo al prossimo Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti